Amici notici nostri, qua ha l'amico fornato che con capadaccio hanno venuto ancora una volta a Tarde Vecchia. Questa è l'operazione che a Tarde Vecchia non voglio capire se vittura, ora è stato venuto. Ma qua ha tornato una volta che avevano usanza da prima, che avevano cattive usanze. Mi sembra che qua la cassonetta non ci viene smontata regolarmente. E verifichiamo questo stato di disagio. Le cittadine vengono all'assanacqua. E non si fa. Pure vi c'è una cassonetta di città vecchia è una cassonetta che vengono ingolfata. Facciamo un po' da strada di Chio, però cerchiamo di distribuire tutta la munnezza come va distribuita. La cassonetta stona, però cerchiamo di tuttare pulita alle città vecchie. Ma dice l'abitante della città vecchia dell'isola e dice, va bene, è solo a noi. E qui c'è, a come vediamo non capace l'operatore dell'Ammio veniamo qua qua per vedere non crescere con la scopa in mano. Abbiamo aspettato tanto tempo. Non abbiamo fatto un giro. Abbiamo potuto vedere. A qua non si tratta di dare un contributo straordinario alla spazzina, ai netturbini che le facciano all'Ammio. Qua si tratta di lavoro ordinario. Cioè avessero a vedere qua scopa e avessero a scopare. Per evitare che si consumino certi drammi. Sono tante e tant'otra cose che le cristiane volessero casaggiostasse, però diciamo che a buon momento si accontenterebbero pure da questo. Da Mimma Fornara, Capadaccia e tutta l'abbatante da Suriona, Saganaga.